Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione in primo piano. La cronaca purtroppo per raccontarvi ancora di un tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita oggi un 34enne di nocera inferiore, un giovane chef che si stava recando al lavoro, perso il controllo della sua moto forse a causa dell'asfalto che era stato bagnato dal violento temporale delle prime ore della mattinata. I dettagli nel primo servizio di oggi. È scivolato nella curva forse a causa della pioggia che nelle prime ore della mattinata si era abbattuta con forza anche sulla costa orientale della città di Salerno dove Umberto Gentile, 34 anni, era chef in un'attività di ristorazione. L'acqua piovana ha reso più insidiosa del solito la strada, la litoranea di Salerno all'altezza dell'acqua park Isola Verde, in una curva e in un tratto purtroppo non nuovo ad incidenti tragici come quello nel quale questa mattina ha perso la vita il giovane chef originario dell'agronocerino sarnese di nocera inferiore. Una vita spezzata a causa della caduta dalla sella della sua moto. Umberto è scivolato secondo la prima ricostruzione della polizia provinciale e dei carabinieri della compagnia di Battipaglia ed è finito prima contro il guardrail, poi contro un'auto che proveniva in senso contrario, illeso il conducente della vettura. La moto di Umberto Gentile si è anche incendiata dopo l'urto e per il centauro non c'è stato più nulla da fare. L'intervento dei volontari del Vopi non è servito purtroppo a salvare la sua vita, è stato anche necessario chiudere in entrambi i sensi di marcia il tratto stradale in attesa che sul posto giungesse il magistrato per tutti i rilevi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica di questo tragico incidente stradale. E adesso una notizia di cronaca è ritenuto un possibile corriere proveniente da Napoli dedito alla distribuzione della droga tra Sapri e Maratea. L'uomo arrestato dai carabinieri della compagnia di Sapri che lo hanno fermato ieri mentre lungo la strada provinciale che da Lago Negro porta a Sapri a bordo della sua vettura aveva della droga celata nel vano motore. In particolare grazie ad un controllo i militari hanno trovato quattro involuchi con 200 grammi di cocaina purissima, altri due contenitori con 100 grammi di eroina e la somma di 3.000 euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro, il 52 ne girava anche con documenti falsi al seguito proprio per sfuggire ai controlli. Il consigliere regionale Alberigo Gambino ha convocato questa mattina una conferenza stampa presso lo studio dell'avvocato Giovanni Annunziato. Una conferenza per fare chiarezza dopo le notizie diffuse su un possibile scambio di comunicazioni con il fratello dell'ex sindaco di Scafali. Un richiamo ad una maggiore cautela nell'esposizione di fatti legati a processi e procedimenti in atto di cui il consigliere regionale Alberigo Gambino si dichiara estraneo. Con questa motivazione è stata convocata questa mattina presso lo studio legale dell'avvocato Giovanni Aliberti una conferenza stampa per far chiarezza dopo le notizie diffuse a mezzo stampa che hanno fatto riferimento ad atti ufficiali della regione Campania inviati dal consigliere regionale Alberigo Gambino, Annello Maurizio Aliberti, fratello del primo cittadino pasquale emersi da uno sviluppo di inchiesta della DIA nell'ambito dell'operazione antimafia concentrata su Scafati. Fatti che sarebbero emersi in aula all'apertura del processo Sarastra con la richiesta di acquisizione presentata dal PM Vincenzo Montemurro di cui il consigliere regionale Gambino, ex sindaco di Pagani, non è a conoscenza. Ho voluto evidenziare un aspetto che non esiste. Io non ho mai inviato nessuna email né al fratello del sindaco Aliberti. Per questo motivo, per questo fatto non veritiero, sono uscito la settimana scorsa con titoloni e con pagine di giornali per cose che non sono vere. Che ripeto, io non ho mai mandato nessuna mail al fratello del sindaco Aliberti. Allora ci tenevo a fare questa conferenza qui e ringrazio il mio amico Angelo Custode Giovanni Annunziata per averci anche dato la possibilità e l'opportunità di fare questa conferenza stampa nel suo studio perché volevo ribadire questo aspetto. Cioè basta, basta farmi uscire quotidianamente o periodicamente con titoloni per cose che non sono vere perché sono legate magari a questioni giudiziarie, così come vorrebbero far capire qua. Io, ripeto, qualche settimana fa è stato pubblicato, senza ombra dismentita, un report attraverso il quale è stato sancito e certificato che sono il consigliere regionale più produttivo in termini di proposte di legge presentate, di interrogazioni, di mozioni presentate in consiglio regionale. Gambino ha due momenti di grande mediaticità, quello processualistico e quello politico. Allora, quello politico, viva Dio, io non essendo il rappresentante legale, lo lascio a lui, sicuramente lui è più bravo di me, voi siete più bravi di me nello stabilire quali sono gli spazi da dedicare alla vita politica dell'onorevole Gambino. Non di meno però io ho bisogno che venga fatto un richiamo, quindi una sorta di mozione d'ordine. La vita processualistica dell'onorevole Gambino è terminata. Abbiamo avuto dei processi, abbiamo avuto anche qualcuno in più, abbiamo celebrato tutti i processi con grande rigore, con grande silenzio, con grande rispetto delle istituzioni. Abbiamo avuto delle sentenze, tutte sentenze di assoluzione. Per rigore c'è veramente un ultimo pezzo che va definito in Cassazione, ma la Cassazione ha già dato ragione, quindi credo che si possa abbondantemente definire l'onorevole Gambino un soggetto che ormai è uscito fuori dalla vita processuale di questo Paese. Quindi non abbiamo esigenza che venga valorizzato ancora una volta il duolo processualistico di Gambino, perché Gambino i suoi processi li ha fatti. Non ci sono altri procedimenti in corso? Assolutamente no, ma ovviamente io devo ipotizzare, perché non avendo notizia di nulla, devo ipotizzare che questa ricomparsa mediatica così imponente, impetuosa sulla stampa, in prima pagina di Gambino, sia semplicemente ricollegabile a un'attività più che legittima della procura di Salerno rispetto ad altri episodi che riguardano altri soggetti, altre persone con le quali noi, apprendo oggi dall'onorevole che non ha neanche avuto degli scambi di mail, se ci fossero stati comunque non sarebbe un problema, comunque non sarebbe legge, ripeto, io parlo da avvocato, se ci fossero state le mail non è normale che se c'è una mail tra l'onorevole e un soggetto che in questo momento sta celebrando un processo, abbia questo tipo di salto mediale. Andiamo adesso a Nocera Inferiore, sì, prospetta un'estate molto calda tra le corsie dell'ospedale di Nocera, L'Umberto I. Sarà un mese e mezzo di inferno quello che attende l'ospedale di Nocera Inferiore. A L'Umberto I bisognerà convivere con l'emergenza, sperando sia l'ultima estate di Calvario. Prima di settembre non cambierà nulla, si apprende dai piani alti di Viale San Francesco. Per quanto possibile c'è solo il rischio che la situazione peggiori. La ripresa post-vacanziera dovrebbe portare con sé delle risposte, ma per il momento, oltre che centellinare ogni sforzo e ogni risorsa, non si potrà fare nulla più. Si continuerà dunque con le lunghe attese al pronto soccorso in concomitanza con i picchi del caldo e al posizionamento delle barelle nei corridoi dei reparti, che non istante il poco personale non possono certo chiudere per ferie. Camici bianchi infermieri costretti a gestire dunque il flusso notevole di richieste, ma anche turni massacranti, astento in linea con le normative professionali. Una situazione esplosiva che si riversa dal pronto soccorso ai reparti. In medicina interna ieri mattina, per esempio, c'erano cinque barelle inferme in corsia, privacy zero e terapie somministrate mentre si facevano le pulizie. Cosa accadrà con l'entrata a pieno regime degli accorpamenti disposti al direttore sanitario Alfonso Giordano? L'obiettivo certo è che bisognerà garantire le emergenze, quindi non toccare il pronto soccorso con i suoi circa 72 mila accessi all'anno. Rivedere invece le altre aree con un taglio di circa 40 posti letto. I reparti da unificare, così come da circolare del direttore, sono nefrologia e otorino, gastroenterologia e medicina interna, urologia e chirurgia generale. La scura delle ferie si è abbattuta anche su altri tre reparti, dove si prevedono tagli di posti letto. In cardiologia resteranno attive 14 postazioni, stesso numero in ortopedia e 16 in neurochirurgia. Dal primo lunedì d'agosto saltano anche gli interventi chirurgici di elezione. Si prevedono dunque settimane buie. Torniamo adesso a Salerno per dare spazio alla segnalazione di un nostro telespettatore che chiede all'amministrazione comunale di intervenire in un'area che si trova praticamente a ridosso, di piazza della Concorda, della stazione ferroviaria, del grande parcheggio presso il Grand Hotel. Insomma un'area strategica ed è un'immagine di degrado e di poca pulizia quella che ci ha aiutato a fotografare il nostro telespettatore nella rubrica Viaggio nei quartieri. È un fazzoletto di terra abbandonato che cattura l'attenzione dei più incivili che ne fanno un contenitore per rifiuti a cielo aperto, lo spazio sul quale un cittadino salernitano ha richiamato oggi l'attenzione della nostra rubrica Viaggio nei quartieri. Qui un tempo sorgeva una vetreria, poi dopo anni di abbandono l'ex fabbrica fu demolita, ma del progetto per farne poi dei box interrati non se n'è fatto più nulla. Il terreno oggi resta di proprietà privata e la sua poca pulizia potrebbe anche passare inosservata se non fosse per la strategica posizione che occupa. Ci troviamo nel cuore di Salerno, a pochi passi da punti nevralgici, da un lato la stazione ferroviaria, dall'altra piazza della Concordia, e quella che se fossimo a Cannes sulla Costa Azzurra potrebbe essere la Promenade, con lo stralcio più suggestivo del nostro lungomare percorso da centinaia di persone ogni sera che lo utilizzano per spostarsi dai parcheggi più utilizzati, quello per esempio dell'ex cementificio, oggi Grand Hotel, verso il centro della città. Già solo questo, insomma, basterebbe a pretendere una maggiore dignità per questo fazzoletto di terreno dove in virtù della proprietà privata l'amministrazione comunale di Salerno è costretta ogni volta ad agire in danno dei proprietari per rimuovere sacchetti e spazzatura varia che però rappresentano davvero un pugno nell'occhio nella cartolina sui monti lattari. Parliamo ora di rifiuti, di problemi seri, quelli con l'emergenza. La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha deciso di scrivere al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Sentiamo perché. Una lunga lettera inviata al presidente della regione, Vincenzo De Luca, per chiedere in tempi strettissimi un incontro. Il tema resta sempre quello e riguarda i rifiuti. Alla sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, non è andata giù l'esclusione del sito di compostaggio che dovrà sostituire l'ex stir dalla lista degli impianti che non sorgeranno più in Campania per le proteste avviate dalle amministrazioni e dalla cittadinanza. Battipaglia è la Piana del Sele che scesero in piazza con 10.000 partecipanti al corteo del 23 novembre scorso e che rivendicano un'attenzione ulteriore su un territorio dove la presenza di aziende operanti del settore rifiuti supera le 20 unità. Nuovo accolato appello della francese che pure, leggendo la lettera, aveva ottenuto garanzie dall'assessore all'ambiente di Palazzo Santa Lucia, Fulvio Bonavitacola. Parla di indifferenza istituzionale la sindaca anche davanti agli incendi che hanno interessato alcuni stabilimenti nel corso degli ultimi anni. «Va da sé», scrive la francese, «che in caso di permanere di questo stato di indifferenza verso le sacrosante istanze della città di Battipaglia, farà ricorso a tutte le forme di proteste e di lotta che potranno servire a tutelare un'area di valore immenso come quella di Battipaglia e della Piana del Sele e i cittadini che vi abitano». Ed un altro sindaco del territorio, Giovanni Fortunato, primo cittadino di Santa Marina di Policastro, è pronto a denunciare alla procura di Salerno la situazione non più tollerabile in merito all'ex stir ripresa a funzionare dopo l'incendio. È evidente, attacco Fortunato, che in tutto questo pesa anche e soprattutto l'indecoroso spettacolo di incapacità istituzionale dell'amministrazione regionale della Campania, responsabile del ciclo integrato dei rifiuti, con a capo il presidente De Luca, incapace di realizzare un concreto piano di riordino del ciclo dei rifiuti ed impotente rispetto ad una situazione emergenziale che è ormai del grottesco. Andiamo ora a Sala Consilina, dove ancora non si hanno notizie sulla scomparsa di Michele Gallo. Si sono rivelate fino a questo momento infruttuose le ricerche del giovane Michele Gallo, il 25enne scomparso nella notte tra l'11 e il 12 luglio, dalla sua casa Sala Consilina. Le ricerche e le diverse segnalazioni hanno portato ad ipotizzare la presenza nelle zone marine del Golfo di Policastro, ma potrebbe già essersi diretto verso sud, quindi in Calabria, oppure verso la costiera cilentana. In ogni caso, non si escludono ipotesi, i familiari continuano a lanciare appelli per chiedere aiuto a quanti potrebbero averlo incontrato. Sabato scorso la famiglia e gli amici sono stati impegnati in battute di ricerca partendo da Casella in Pittari per poi dirigersi verso il Golfo di Policastro. La sorella e gli amici lanciano l'appello affinché chiunque abbia modo di incontrarlo possa fermarlo e intrattenerlo in qualsiasi modo e contattare le forze dell'ordine e i familiari ai numeri diffusi anche tramite volantini, oltre che sui siti internet e sui social. Michele Gallo al momento della scomparsa indossava una maglia in filo bluette a manica lunga, bermuda nero e scarpe di colore blu simili al colore della maglia e nero, come nella foto postata dalla sorella Elena. Tantissime le persone che continuano nelle ricerche sembra però che non sono sufficienti e si susseguono anche sui social con continue richieste di aiuto della ricerca, vista anche la vastità dell'area da perlustrare. Numerosi i messaggi che vengono lanciati soprattutto dalla sorella, che in queste occasioni ha ricordato come il giovane sia di indole molto tranquilla, ma che potrebbe trovarsi in uno stato confusionale che gli impedisce di ritornare a casa. Per questa ragione l'appello è quello di fermare il ragazzo qualora venisse individuato da qualcuno e trattenerlo fino all'arrivo dei soccorsi. Le segnalazioni nei giorni passati non sono stati sufficienti. Infatti dopo gli avvistamenti il ragazzo si è nuovamente allontanato e si sono nuovamente perse le tracce. Michele Gallo potrebbe trovarsi ancora nella zona del Golfo di Policastro così come potrebbe essersi spostato anche sulla costiera cilentana o verso sud in direzione della Calabria. Si teme che si sia allontanato a bordo di un treno. Anche la trasmissione Rai Chi l'ha visto e sulle tracce del ragazzo, sul sito internet ufficiale della trasmissione è possibile trovare tutte le informazioni utili. Parliamo ora di emergenza incendi con l'arrivo dell'estate. Il comune di Cava dei Tirreni chiama a raccolta i volontari e le associazioni per essere aiutato nell'attività di prevenzione degli incendi boschivi. L'estate scorsa fu un'estate drammatica per il comune metelliano. Sotto questo fronte. Chiama a raccolta i volontari, l'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni per le attività di prevenzione degli incendi boschivi. Domani, infatti, mercoledì 18 luglio alle ore 18.30, a Palazzo di Città è stata convocata l'Assemblea Generale delle Associazioni di Volontariato e dei cittadini croattivi nel settore della tutela ambientale. L'obiettivo è quello di realizzare un centro di coordinamento diretto dalla protezione civile attraverso il quale mettere in pratica le attività e le iniziative soprattutto per la prevenzione degli incendi boschivi con campi di avvistamento, controllo del territorio anche con l'utilizzo del drone di ultima generazione di cui si è dotata la protezione civile cavese. Dopo i gravi incendi che la scorsa estate hanno devastato soprattutto il versante dei Monti Rattari, l'amministrazione comunale ha messo in campo una serie di interventi di bonifica, prevenzione e reggimentazione delle acque meteoriche e delle aree boschive sulle colline cavesi per mitigare il rischio di frane per la mancanza di vegetazione e soprattutto per mettere in sicurezza l'intero territorio. Tutta la serie di attività che saranno messe in campo ma la cosa molto importante è quella del coinvolgimento delle associazioni. Saranno convocate tutte le associazioni che in qualche modo hanno contribuito l'anno scorso allo spagnamento degli incendi in modo da effettuare un coordinamento comunale con la supervisione della protezione civile che in caso di pericolo, di incendio, di necessità si può intervenire questa associazione in modo coordinato, in modo assistito da parte della protezione civile. Fermo restando l'importanza del drone che sarà utilizzato per la prima volta a partire dai prossimi giorni è importante l'avvistamento sul territorio così come avveniva fino ad alcuni anni fa. Avvistamento che deve essere fatto nei punti, come dire, nevralgici, nei punti strategici. Andiamo adesso ad Agropoli vediamo nel comune cilentano invece come si sta fronteggiando l'emergenza incendi per l'estate. A distanza di un anno quando la città di Agropoli e i paesi limitrofi furono interessati da diversi ruoghi a causa dei quali furono distrutti interi ettari di vegetazione con gravi danni al patrimonio forestale e all'assetto idrogeologico pare che alcuni cittadini non abbiano ancora capito l'importanza di mantenere puliti i terreni sterpaie, cespuglie ed erbe secche rappresentano una possibile fonte di incendio e per evitare che il fenomeno si ripeta i proprietari di terre e giardini hanno l'obbligo di mantenere pulite le proprie proprietà ma sul territorio comunale diverse aree risultano essere ancora incolte e, considerate le alte temperature del periodo c'è il rischio che dagli arbusti possano generarsi uno o più incendi con possibile rischio della pubblica incolumità come lo scorso anno anche per questa stagione estiva è stata emessa un'ordinanza contenente le prescrizioni per la prevenzione e lotta contro gli incendi infatti i proprietari dei tentori di terreni debbono provvedere a rimuovere sterpaie, cespuglie, ruovi, erbe secche e qualsiasi altra fonte di incendio rifiuti compresi gli stessi inoltre devono assicurare lungo i propri confini un'apposita fascia frangifuoco non inferiore a 10 metri sono obbligate alla polizia anche i proprietari di fondi che confinano con le strade comunali, provinciali o con spazi pubblici per una fascia frangifuoco non inferiore a 50 metri i medesimi soggetti hanno anche l'obbligo di provvedere ad una regolare potatura tutti i materiali di risulta non potranno essere bruciati ma solo dietro preventiva comunicazione al comune tali attività è comunque vietata dal primo giugno al 30 settembre l'ordinanza prevede anche che fino al 30 ottobre è vietato bruciare nei campi anche quelli incolti stoppie o arbusti ed è vietata ogni altra attività che possa innescare incendi in caso di violazione delle suddette normative sono previste sanzioni amministrative allora come dicevamo torniamo ad occuparci di Agropoli del comune cilentano per alcune novità che riguardano la viabilità ed in particolare l'istituzione di zone a traffico limitato nel centro l'amministrazione comunale di Agropoli retta dal sindaco Adamo Coppola ha tenuto conto che è necessario disciplinare il traffico in città anche al fine della tutela dell'incolumità e della sicurezza dei numerosi pedoni ha avviato le procedure per l'istituzione di diverse zone a traffico limitato si tratta di un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti o di veicoli ciò per garantire una maggiore vivibilità del centro urbano tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione sulla salute sull'ordine pubblico sul patrimonio ambientale e culturale del territorio tra le aree individuate vi è la zona a traffico limitato denominata B1 che comprende l'intero tratto di via Tenente Gino Landolfi di piazza San Severino e di via Baracca e via Carmine Rossi a partire dall'incrocio con via Surmonte fino all'intersezione con piazza Vittorio Veneto la zona a traffico limitato denominata C invece interessa via Flavio Gioia via Deimille via Martiri Cilentani via Cavour e via Mazzini inoltre è invertito il senso unico di marcia del tratto di strada di via Riviera Antonicelli che dalla discesa di piazza delle mercanzie porta via Pisacane ovvero la direzione di marcia sarà da via Pisacane a via Riviera Antonicelli i permessi per le suddette ZTL già rilasciati saranno ritenuti validi fino alla loro naturale scadenza prevista per il 31 dicembre 2018 un'apposita segnaletica renderà esplicite e manifeste le modifiche apportate alla viabilità inoltre a controllare l'accesso delle ZTL ci saranno anche i varchi elettronici che verranno posizionati in via Carmine Rossi via Flavio Gioia e piazza Vittorio Veneto infatti grazie alle telecamere di videosorveglianza sarà possibile controllare i mezzi di passaggio ed eventualmente sanzionarli se privi di autorizzazione troppo spesso si assiste all'attraversamento di auto sull'isola pedonale o alla congestione del traffico veicolare nei punti più sensibili dove maggiore l'afflusso di pedoni con il rischio di mettere in pericolo la pubblica incolumità di quest'ultimi Ora spazio alla nostra rubrica dedicata agli appuntamenti Al Cinemateatro San Demetro di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi in programma è il film Giochi di Potere tra gli spettacoli alle ore 18 alle 20.10 alle 22.15 fino al 15 luglio per l'iniziativa Cinema Days anche per la sala del San Demetrio in gesso unico 3 euro per informazioni 089 22 0489 www.cineteatrosandemetrio.it Andiamo ti divertirai te lo prometto La Salernitana è a lavoro a Rivisondoli ne parliamo tra poco nella parte del nostro Tg dedicata all'informazione sportiva subito dopo le previsioni del tempo vi aspetto restate con noi in collaborazione con Arechi Security Service la tua sicurezza il nostro impegno formazione discrezionalità professionalità la nostra mission efficienza e qualità professionisti nella sicurezza Arechi Security Service la nostra qualità per la tua sicurezza Arechi Armystone armeria dedicata militaria armeria soft air al tuo servizio per ogni esigenza a Salerno in via Benner 75 previsioni per oggi al mattino sulle coste nubi e schiarite con possibili piovaschi in montagna nubi e schiarite con possibili piovaschi nel pomeriggio sulle coste parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti in montagna nubi e schiarite con possibili piovaschi previsioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli quasi sereni previsioni del tempo fornite da 3B Meteo eccoci allora con l'informazione sportiva come dicevamo la Salernitana è a lavoro al Rivisondoli in Abruzzo secondo giorno di romitaggio estivo per il Granata con l'Antuono prova il 3-5-2 al tappeto Altobelli per uno scontro fortuito con Schiavi le 3P nel secondo giorno di lavoro a Rivisondoli pioggia palestra e pallone nella notte un violento acquazione ha rinfrescato ulteriormente l'aria nel piccolo centro abruzzese a due passi da Roccaraso dove i Granata sono in ritiro da domenica scorsa la pioggia copiosa ha reso il manto erboso del campo dove si allenano Schiavi e compagni pesante e parecchio allentato a tal punto da costringere con l'Antuono a disporre un immediato taglio dell'erba del secondo campo situato alle spalle dello stadio giusto per trasferire lì la seduta mattutina fatta di partitelle a pressione molto intense con campo e porte ridotte è andato in scena una sorta di mini torneo con tanto di sponde e primi calci in uno scontro con Schiavi infatti Altobelli ha riportato un doloroso colpo al setto nasale fortunatamente nessun problema grave per lui rientrato in campo dopo alcuni minuti di cure da parte dello staff sanitario già lo staff da stamane si è aggregato alla squadra di Colantuono anche Ernesto De Santis allenatore della formazione Granata Under 15 per implementare il numero di collaboratori al servizio del tecnico di origine romane i preparatori atletici Bertini e Filetti hanno abbinato un lavoro in palestra a quello con il pallone nella primissima mattinata l'umore del gruppo è di quello giusto c'è concentrazione ma non mancano battute in momenti di maggiore spensieratezza le prime impressioni dopo questi due giorni di lavoro è che Colantuono intende a proseguire sul solco della difesa a tre un 3-5-2 elastico con la variante del 3-4-1-2 insomma ieri pomeriggio il tecnico ha disposto alla squadra a cinque in fase di non possesso Casasola Granata Schiavi Vitale sette da una parte di Roberto Mantovani Galeota Fiore Bigliotti Pucino dagli altra in fase di possesso gli esterni sono avanzati sulla mediana ne è venuta fuori una serie intensa di partitelle a pressione da un lato Pucino Castiglia Signorelli Ackpac Pro e Di Roberto con Rosina e Volpicelli in attacco dall'altro Casasola Altobelli Palumbo Mazzarani è sette con Gaeta e Bocalon in avanti gli altri Baby Ogier Cicerelli e Marchesi sono poi subentrati in corso d'opera a seguire il lavoro sulla metà campo grande in cui Collantuono ha provato anche un tridente nelle esercitazioni di attacco contro difesa Cicerelli Volpicelli e Rosina hanno composto il pacchetto dei tre attaccanti con da destra Pucino Ackpà Signorelli Castiglia e Di Roberto a servirli difesa cinque con un solo mediano basso Palumbo a difendere Colantuono si aspetta rinforzi in tutti i reparti del campo per quello offensivo in dirittura d'arrivo la trattativa per Ferrari del Genova in ritiro arriva il Giovane Marchesi La Sarenetana si cautela con Ferrari in attesa di conoscere la telenovella Iallo con la pista Diuric sempre più lontana il club Granata punta sull'ex Pistoiese in difesa restano nel mirino del Fabro e Salvatore Monaco ma si sonda Tonucci più defilato Iomber intanto a Rivisondoli arriva in prova il giovane centrocampista della Lazio Federico Marchesi Movimenti anche in uscita Giuseppe Rizzo da ieri è passato al Catania a titolo definitivo rescissione consensuale in granata e biennale con opzione alle pendici dell'Etna mentre Cadi ad un passo dall'accasarsi al Como restano in sospeso Zito e Popescu capitolo attaccanti Franco Ferrari classe 95 a un passo dalla Saranitana il giovane Bomber di proprietà del Genoa lo scorso anno alla Pistoiese 13 reti per lui è vicinissimo al trasferimento all'ombra della Rechi il club Granata ha già un'intesa di massima con il suo agente sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore del Grifone infine la posizione di Yallo l'attaccante del Chievo avrebbe dovuto prendere un volo dal Gambia ieri per poter essere domani a colloquio con l'Otito in persona a Villa San Sebastiano a Roma al momento però la fumata è ancora grigia tra Chievo e Saranitana c'è l'intesa resta da convincere il ragazzo ad accettare il prestito con obbligo di riscatto in caso di massima serie proposto dal club Granata piuttosto che un trasferimento a titolo definitivo che invece vorrebbe l'attaccante staremo a vedere capitolo centrocampo ieri ha fatto Capolino nel ritiro di Rivisondoli il primo volto nuovo si tratta del giovanissimo Federico Marchesi classe 99 l'altra sera in sede a Salerno Marchesi proviene dal settore giovanile del Milan e lo scorso anno è passato alla primavera della Lazio il centrocampista è stato nel giro della nazionale Under 17 e proverà da ieri a convincere Colantuone in questi primi giorni di romitaggio estivo sempre per la mediana si intensificano i contatti per Niccolò Fazzi classe 95 dell'Atalanta il suo agente Giuseppe Riso è in parola con il management Granata stesso discorso per quanto riguarda Boris Radunovic che arriverà o meglio tornerà a Salerno sempre via Bergamo dovesse saltare Fazzi la salernetana virerebbe forte su Alberto Gerbo classe 89 del Foggia inseguito anche da Lecce e soprattutto dal Crotone del suo ex tecnico Stroppa in difesa invece ieri è stato ufficializzato l'arrivo di Gigliotti classe 89 a titolo definitivo fino al 2021 dall'Ascoli il Mancino si allenava con la salernetana da venerdì scorso nelle casse del Picchio sono finiti 200.000 euro per il suo cartellino restano in piedi le trattative per Del Fabro classe 95 scuola all'Uve l'anno scorso al Novara inseguito anche dalla Cremonese e Salvatore Monaco del Perugia spunta Tonucci del Foggia che ha un ingaggio però faraonico e allora come dicevamo parliamo della campagna abbonamenti della salernetana 125 euro per la curva di meno rispetto all'anno scorso i dettagli nel servizio è stata presentata ieri sul sito della salernetana la nuova campagna abbonamenti del club Granata che parte ufficialmente oggi per la stagione del centenario non a caso lo slogan è fin troppo eloquente una data nella mente una fede in fondo al cuore e quasi un secolo 19 giugno 1919 19 giugno 2019 a voler precisare ove mai ce ne fosse ancora bisogno che quest'anno non è come tutti gli altri rispetto a 12 mesi or sono il suo dalizio Granata ha voluto recuperare tempo e probabilmente soldi oltre che aficionados l'anno scorso infatti la campagna si aprì il primo agosto a circa 20 giorni dall'inizio del campionato quest'anno la proprietà di concerto con l'area marketing ha deciso di anticipare i tempi utile per il tifoso chilometriche erano le code chilometriche probabilmente rimarranno nonostante la possibilità di comprare il carne online ma con più giorni a disposizione che non possono che giovare ma naturalmente quello che salta agli occhi e pesa più di ogni altra cosa sulla bilancia dell'equilibrio e delle scelte magari è il prezzo dell'abbonamento anche quello l'anno scorso il costo medio era considerevole infatti al botteghino furono sottoscritti appena 3.300 abbonamenti circa mille in meno rispetto alla stagione precedente quella 2016 2017 tanto per intenderci quest'anno il club granata ha fatto un importante passo indietro la società ha capito che per tornare ad avere numeri importanti serviva anche una riduzione del prezzo e così è stato diciamo anche perché come sempre a infiammare la piazza serviranno soprattutto gli acquisti e probabilmente anzi sicuramente un progetto chiaro e dichiarato intanto i prezzi il costo per l'abbonamento 2019 è molto più basso rispetto a quello del 2018 soprattutto in curva si è passati dai 155 euro di un anno orsono ai 125 euro di questa campagna 30 euro in meno una cifra comunque importante riduzione anche in tutti gli altri settori dello stadio nei distinti serviranno 210 euro o 125 se si compra quello ridotto contro i 231 dello scorso anno 8 euro in meno in tribuna azzurra rispetto a 12 mesi orsono 300 il costo per il 2018 2019 mentre in tribuna verde il prezzo è fissato per 400 euro contro i 423 dello scorso anno chiude il cerchio la tribuna rossa 500 euro per vedere il campionato nei posti migliori dello stadio l'anno scorso si pagava 519 identico invece il carnet degli abbonamenti anche quest'anno infatti l'abbonamento sarà valido per 19 partite previste due giornate granata serie B e ripescaggi permettendo naturalmente parliamo ora di una novità che arriva dalla procura federale di Roma sul presunto illecito del Parma la richiesta è di 4 anni di squalifica per Emanuele Calaiò e soprattutto due punti di penalizzazione al Parma che comporterebbe il ritorno in serie B i ducali infatti andrebbero dietro al Palermo in classifica in alternativa la procura FIGC avrebbe chiesto 6 punti per la stagione in corso con il Parma però che resterebbe in serie A adesso la palla a mano la PDO Salerno cala il Tris la società cara al presidente Pisapia dopo aver centrato la vittoria dello scudetto con la formazione Signores e con la compagine Under 17 porta a casa anche il titolo nella categoria Under 15 femminile a Misano Adriatico in occasione del festival della palla a mano le giovani atleti allenate da Laura Avram superano in finale il Cassano Magnago conquistando così il secondo titolo giovanile stagionale terzo stagionale la PDO Salerno ha sin da subito mostrato i muscoli le varesine dal canto loro hanno provato a tenere testa le salernitane senza però riuscire nell'intento dunque le ragazze allenate da Laura Avram dopo aver centrato la vittoria nella categoria Under 17 superando in finale dopo i tiri dai 7 metri il conversano tra le mure amiche della palestra a Palumbo si ripetono ancora una volta e in quel di Misano conquistano lo scudetto nella categoria Under 15 femminile complimenti alle giovanissime della Handball noi ci fermiamo è tutto per questa edizione del nostro TG grazie per essere stati con noi arrivederci vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand e clicca su Grazie.